Buongiorno a tutti, stamattina sono fermo in un parcheggio perché sto aspettando un proprietario immobiliare che mi deve far vedere un bellissimo appartamento e intanto stavo pensando, siccome io nonostante che ormai sono avanti con l'attività di affitti brevi ma continuo a leggere libri di altri colleghi, di persone che fanno la stessa attività e ogni tanto leggo in qualcuno che dice che la partita IVA è bene aprirla solo dopo il terzo immobile, il terzo appartamento che verrà adibito ad affitti brevi. Io a chi mi segue vorrei dare un consiglio, se inizi con il primo appartamento e inizi senza partita IVA dai già al tuo cervello l'idea che stai provando a fare una cosa che potresti portare avanti e no questo significherebbe per te perdere del tempo, spendere dei soldi e avere anche delle delusioni magari e avere un calo di autostima perché se inizi una cosa e poi la smetti bene o male l'autostima va sempre un pochino giù quindi io direi se hai deciso di intraprendere questa attività o fai già altre attività ma vuoi inserire anche questo nel tuo portafoglio di business io direi allora pianifica quello che vuoi fare quindi decidi già da subito a quanti appartamenti vuoi arrivare nel tuo progetto quanto tempo ci vuoi mettere e quanto hai da spendere e quanto presumi invece che ci vogliano quindi ti fai un conto spese per il tuo business quantifichi quanto ci vuole per iniziare quindi inizi sempre con uno normale perché se apri tre appartamenti tutti insieme l'inesperienza potrebbe farti qualche brutto scherzo però direi che una volta pianificato il tutto apri già partita IVA perché se sei una persona decisa che vuole guadagnare affittando a breve affittando a turisti sfruttando l'opportunità che ti dà il fatto che le persone abbiano esigenze di spostarsi per un periodo limitato per un giorno due giorni tre giorni da una parte all'altra della città della regione della nazione o del continente quindi non partire con vabbè adesso ci provo poi magari se va male mollo e mi metto a fare il gelataio no no secondo me è diverso allora mi piace questa attività vedi, leggi dei libri, guardi i filmari su youtube non solo i miei ci sono tante altre persone anche che fanno questa attività e che sono bravissimi ti fai già una certa esperienza accumuli già delle nozioni nella tua testa prendi non uno ma due tre bloc note e segni tanti 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 appunti poi li leggi, li rileggi e prendi ancora un altro bloc note e ci scrivi il mio progetto quindi da tutte queste nozioni cominci poi a sviluppare il tuo progetto a quantificare quanto ti costerà apri la partita IVA e parti e una volta partito ti devi dare delle scadenze devi dire ok il primo appartamento l'ho trovato fra tre mesi, quattro mesi ne voglio già avere un altro quindi poi metti in funzione le tecniche, le strategie che riterrai più opportuni per trovare nuovi appartamenti per come contattare i proprietari cosa dire ai proprietari, come spiegarle ai proprietari molte cose le ho detto nei miei filmari quindi se ti iscrivi al canale Amare gli Immobili Affitto Stanza molte nozioni le do anch'io gratuitamente poi ci sono anche altre persone che li danno quindi poi inizi e inizi ma non a come riesce devi iniziare avendo già una strategia in testa quindi un appartamento ogni tre mesi ok ogni quattro mesi ok i primi tempi ti dovrai smazzare ti dovrai impegnare al massimo ma vedrai che poi tempo almeno due anni dopo due anni comincerai magari hai già i tuoi primi 4-8 appartamenti hai le tue magari 24 stanze hai i tuoi 70-80 posti letto comincia ad essere un attimino una persona uno che a fine mese ha dei buoni incassi quindi gli utili cominciano a diventare interessanti e quindi poi potrai dedicarti o all'ulteriore crescita quindi alla moltiplicazione dei tuoi 8 appartamenti e farli diventare 100 oppure magari dire ok adesso ho stabilizzato questo business quindi avrai il tuo gruppo di persone che collaborano con te chi è adibito alle pulizie chi invece ha la gestione il commercialista adatto e tutto e allora poi potrai magari dedicarti a nuovi business secondo me questo è il miglior modo di farlo e se sei d'accordo con me scrivimelo sotto fammi delle domande che ti posso anche rispondere io e il mio socio Maurizio abbiamo iniziato quasi per gioco su una battuta e adesso abbiamo quattro strutture insieme che vanno alla grande abbiamo diverse strutture che ci stanno facendo i lavori perché poi più cresci più vai avanti più ti accorgi che magari l'appartamento tre stanze con un bagno in comune comincia a diventare pochino dura quindi stiamo strutturando una struttura ad esempio partirà con sette stanze sette bagni più una bellissima cucina in comune per tutti quindi qualcosa di molto carino e si inizia sempre da uno solo ma con la vision di arrivare poi magari a 20, 30, 50 appartamenti fallo anche tu e fammi tutte le domande che vuoi sarò disponibilissimo a risponderti iscriviti al canale Amare gli Immobili Affitto Stanza o alla pagina Amare gli Immobili Affitto Breve Vivi di Rendita diventa nostro amico e magari se vuoi iniziare noi stiamo avendo tantissime richieste di coaching personalizzate perché preferiamo piuttosto che organizzare sale con tantissima gente e solo per fare un bel corso siamo più contenti di avere dei buoni partner che dopo una, due giornate o di più insieme a noi abbiano imparato tutte le chicche, le furberie, le bravure per poter da subito, da subito guadagnare con questa attività investendo pochi soldi questa attività si può iniziare anche a zero soldi però è molto più difficile poi nel caso se mi chiederai una coaching ti spiegherò tutto, tutto, tutto quello che ti potrà servire intanto ti saluto e aspetto le tue domande ciao da Pietro Riccio